Buongiorno, eccoli qua che li inquadro a tutto il gruppo della Physio Point, capitanato dal buon Filippo. Buongiorno, ben trovati, ben trovati ragazzi, ho bisogno di voi, ho bisogno di voi, ci vorrei fare una canzone. Mi dovete dare una mano ragazzi, sono veramente messo male, ma questo poco conta, insomma, qual è l'argomento di oggi? Allora, siccome la stagione è cominciata, tutti quanti siamo alle prese con attività fisica in funzione dell'estate e quindi tutti che cominciano ad andare a correre in bicicletta, tennis e così via, oggi affrontiamo la corsa, sia come preparazione, quello che dobbiamo fare chiaramente per andare a correre, sia quelle che possono essere i piccoli accorgimenti o le problematiche che possono incorrere e come trattarle. Bene, a voi. Io qui sono in compagnia di Marco, che abbiamo già conosciuto, Marco Macri è il responsabile della preparazione atletica e Maria Civita Sepe, la responsabile dei fisioterapisti. Quindi comincerei subito a chiedere a Marco che cosa dobbiamo fare per cominciare ad andare a correre. Tutte quelle persone che normalmente durante l'anno sono un pochino più sedentari e in questo periodo cominciano a riprendere le scarpe dalla borsa lasciata l'anno scorso e cominciano ad andare a correre a Villa Panfidi, Villa Borghese, insomma tutti i bei parchi di Roma o anche per strada. Quali sono gli accorgimenti, i suggerimenti che diamo in prima istanza per evitare di avere poi dei problemi? Allora Filippo, innanzitutto hai detto, hai un'informazione molto semplice ma che è così semplice non è, in quanto è facile pensare che per andare a correre siano sufficienti soltanto un paio di scarpe non è necessaria effettivamente una vera attrezzatura ma dietro la corsa c'è veramente un lavoro un pochino più impegnativo perché la corsa è anche la prima causa di infortuni e non è soltanto uno sport facilmente praticabile e diciamo che incorrono un pochino più in questi rischi le persone dell'ultimo minuto le persone che una volta che le giornate si allungano, che esce il sole, ovviamente prendono le loro scarpe e corrono primo errore finché non ce la fanno più quindi intanto il primo consiglio che do è di ascoltare il proprio corpo e partire sempre gradualmente per quanto riguarda il lavoro della corsa dopodiché è utile fare dei piccoli esercizi, degli accorgimenti che servono proprio per prevenire gli infortuni diciamo che in alcune strutture organizzate, in alcuni negozi di sport consigliano nella scelta della scarpa perché anche quella è una cosa non banale non dovremmo scegliere una scarpa in base alla marca o in base alla bellezza estetica o ai colori ma in funzione del nostro piede, ognuno di noi ha un appoggio diverso, ha una tipologia diversa di camminare quindi la scarpa dovrebbe essere provata con questo obiettivo quello di capire bene quali sono le nostre caratteristiche e prendere quella che più si adatta alla nostra conformazione in alcuni negozi hanno la possibilità di fare queste valutazioni per vedere il tipo di appoggio ed essere consigliati da un esperto per scegliere la scarpa adatta una cosa che sconsiglio è quella di prendere scarpe molto vecchie o scarpe non adatte al running perché la scarpa ha una funzione per attutire i colpi che il corpo va a prendere andando a correre quindi è molto importante la scelta della scarpa uno dei primi errori in cui si incorre quando si va a correre è pensare che sia un lavoro prettamente a carico dei muscoli delle gambe in verità la fase propulsiva parte dal piede, il piede va gestito in una maniera specifica il piede va allenato con esercizi di mobilità articolare, esercizi di rinforzo muscolare soprattutto se si hanno problematiche come ad esempio piede piatto o piede cavo quindi un appoggio non corretto di quello che si chiama tripode plantare perché appunto il piede poggia su tre punti focali in questo Fisio Point può esservi utile perché per tutti gli ascoltatori e anche i telespettatori c'è la possibilità a Fisio Point di fare una valutazione completamente gratuita dell'appoggio del piede abbiamo messo a disposizione un podologo con una baropodometria quindi un esame computerizzato che ci consente di vedere esattamente come carichiamo come abbiamo visto in una scorsa puntata con la professoressa Di Cave e con Maria Civita il nostro piede non è una struttura statica è strutturato in maniera tale da avere tre punti d'appoggio che sono in corrispondenza dell'alluce, in corrispondenza del mignolo e al centro del tallone tra questi tre punti si formano tre archi noi vediamo soltanto uno degli archi che è quello più pronunciato però c'è un equilibrio molto molto importante che deve essere rispettato per cui venite a fare una baropodometria, venite a fare una valutazione ripeto completamente gratuita per tutti quanti per vedere qual è il vostro appoggio e in funzione di quello stabilire se è necessario fare degli esercizi che adesso magari Maria Civita ci spiega quali possono essere gli approcci quando abbiamo un piede piatto, un piede cavo o delle altre disfunzioni oppure in alcuni casi quando è necessario fare addirittura un plantarino che può essere messo poi nelle scarpe da corsa per andare a fare la nostra sessione quotidiana di running molto importante quello che diceva Marco prima partiamo con gradualità, partiamo con un pochino di lavoro per volta perché il lavoro, gli effetti del lavoro li vediamo non alla fine della corsa ma il giorno dopo, due giorni dopo quindi andiamo con gradualità allora Maria Civita vediamo un attimo quali possono essere gli accorgimenti dopo aver fatto una valutazione baropodometrica emerge che possiamo avere un piede piatto, un piede cavo o delle altre problematiche che cosa possiamo fare, che tipo di suggerimenti abbiamo in merito? allora la prima informazione che è fondamentale è andare oltre l'aspetto anatomico e cioè capire che il piede è un organo di senso quindi è in grado di percepire qualsiasi tipo di informazione arrivi in primis dalla scarpa che utilizziamo in secondo luogo dalla superficie su cui utilizziamo questa scarpa quindi in base alle variazioni proprio di struttura del piede avremo dei sovraccarichi appunto in alcune di queste tre zone oppure addirittura in punti non previsti dalla fisiologia quindi dal normale funzionamento del piede che cosa dobbiamo fare quindi? dopo aver fatto una valutazione baropodometrica sarà importante in base al risultato andare a lavorare sia sul rinforzo specifico di alcuni muscoli intrinseci quindi interni al piede però sarà anche altrettanto importante il lavoro di tipo propriocettivo cioè sviluppare tutta una serie di esercizi che vadano a dare al piede la sicurezza e la stabilità in condizioni di instabilità quindi di terreni non troppo sicuri o comunque sani da questo punto di vista la differenza tra correre sull'asfalto, il cemento o andare a correre a Villa Panfili è enorme ovviamente più è rigido il terreno su cui andiamo a correre più sarà l'impatto di ritorno che arriva sul nostro tallone di conseguenza si trasmette alle caviglie, alle ginocchia, alle anche alla colonna vertebrale per cui è importante anche la scelta del luogo dove andare a correre ovviamente se andiamo in una villa a correre possiamo incontrare delle instabilità che sono quelle più pericolose ai fini delle distorsioni perché buche, una radice o il terreno comunque instabile può creare questo tipo di problemi vediamo un pochino Marco quali sono gli esercizi che suggeriamo per cominciare a fare un allenamento in funzione della corsa allora intanto mi aggancio un attimino al discorso degli infortuni proprio per andare a individuare quelli che sono i muscoli coinvolti chi dopo la corsa, chi il giorno dopo sente dolore o fastidio alle ginocchia è perché probabilmente ha corso male perché il dolore al ginocchio quindi di solito che può derivare da uno stress al tendine rotule o del quadricipite è un dolore che deriva da un'azione frenante perché il quadricipite non serve per correre per correre servono i muscoli posteriori quindi i glutei e tutta la fascia ischio crurale quindi i muscoli posteriori della coscia e se non pure ovviamente i polpacci quindi tutta la catena posteriore sentire dolore al ginocchio può essere sintomo di una corsa sbagliata quindi intanto consiglio a tutti di affidarsi ad un coach una persona che possa guidare su quella che è la tecnica corretta di corsa per quanto riguarda gli esercizi andando nello specifico ci sono quelli adatti proprio alla corsa quindi gli esercizi di pre-atletici vengono chiamati quindi sono esercizi di mobilità articolare o di tecnica come possono essere le andature passi saltellati doppi impulsi lavori di circonduzione delle anche si può anche lavorare senz'altro in palestra perché lo squat è un fondamentale per tutta la gamba lo squat che non è da intendersi come il sollevatore di pesi che si carica 200 kg lo squat è tale anche solo a corpo libero quindi allenare la mobilità articolare perché se uno non ha una buona mobilità di caviglia lo squat non riesce a farlo e di conseguenza neanche la corsa quindi avere una routine di allenamento anche in palestra che prevede esercizi di rinforzo muscolare della gamba in toto oltre ad esercizi di core stability esercizi di mobilità articolare e pro-precezione una combinazione di questi esercizi mi raccomando guidati ovviamente da un tecnico che possa fare la giusta formazione aiuteranno senza dubbio un'ottima performance questo chiaramente è per chi vuole fare un lavoro un pochino più avanzato diciamo che chi va a correre per scaricare un pochino per fare un po' di movimento magari non avrà questo tipo di approccio così completo per cui suggeriamo innanzitutto ecco un consiglio che do a tutti quanti chiaramente cerchiamo di trovare dei terreni in piano non corriamo in salita non corriamo in discesa perché cambia completamente l'impatto sulle articolazioni sul piede e di conseguenza lo sforzo muscolare quindi quantomeno per chi non è un runner professionista o non si allena in maniera adeguata come sottolineava adesso Marco cominciamo a fare una corsa in piano su un terreno morbido e per brevi periodi in maniera tale che si possa fare un lavoro crescente andiamo ad incrementare di volta in volta quello che poi è il carico di lavoro e lo associerei anche ad una corretta alimentazione perché la benzina serve per muoverci possiamo avere la macchina più bella del mondo ma se non abbiamo la benzina solitamente il primo fattore energetico è il carboidrato quindi solitamente viene consigliato l'assunzione di mio errore ammetto la mia questo però non vuol dire che prima di andare a correre ci dobbiamo fare un piatto di spaginato perché sennò diventa deleterio anche i tempi dell'alimentazione sono importanti soprattutto quanto deve passare questa è una domanda che vi volevo fare anche quanto deve passare dall'alimentazione quando avete ingerito non dico una carbonara ma insomma un carboidrato un piatto di pasta consiglio anche un piatto di pasta e poi dopo quando puoi cominciare a correre allora considera che per quanto riguarda l'assimilazione dei macronutrienti quindi proteine, carboidrate e grassi c'è un passaggio fondamentale cioè il cibo deve passare nello stomaco lo stomaco deve piano piano processare il tutto e mandarlo in digestione quindi io consiglio sempre di tenersi sul range di un paio d'ore prima se uno deve proprio mangiare in senso stretto se si tratta di fare dei fast break con delle barrette o con degli integratori quelli sono fatti apposta per essere assunti sia a ridosso che durante la prestazione se si tratta di un pasto ho consigliato ad un'amica che ha fatto la Roma Ostia e lei partiva alle 5 di mattina da casa per andare alla corsa e ha detto se riesce alle 4 per partire a correre dopo 2-3 ore e cerca di fare un piatto di pasto se vuoi mangiare un piatto complesso ovviamente tutto dipende da quanto è complesso il piatto la pasta si un paio d'ore per non averla proprio sullo stomaco chiaramente abbiamo oggi tutta una serie di integratori anche in forma liquida che possono essere assunti a ridosso dell'allenamento adesso io penso più che a chi fa maratone o performance importanti penso a chi va a correre così è importante andare a correre con la giusta energia perché questo è anche motivo di poi infortuni nel momento in cui siamo troppo troppo stanchi il rischio è che ci facciamo anche male e poi successivamente alla performance quindi dopo aver speso soprattutto durante il periodo caldo quando sudiamo tanto noi andiamo lì a perdere tanti sali minerali che vanno reintegrati per cui anche lì è importante avere degli integratori immediatamente dopo aver corso bere durante la corsa quindi avere appresso e fare stretching al termine della seduta facciamo lo stretching quello lungo quello che serve proprio per rilassare tutte le strutture prima della corsa facciamo degli esercizi di mobilità articolare e sessioni un pochino più breve di stretching quindi alla fine più lungo all'inizio un pochino più breve quindi non dobbiamo andare a allungare eccessivamente le articolazioni prima di andare a correre quello che dicevamo anche la prima volta che parlavamo di chi va a giocare a pallone non dobbiamo fare uno stretching troppo troppo prolungato per evitare una possibile instabilità delle articolazioni dopo che abbiamo lavorato e quindi quando il muscolo ha necessità di essere allungato invece dobbiamo spendere un pochino più di tempo per fare questo allungamento quindi rinnovo l'invito a venire a fare un lavoro specifico di valutazione con la baropotometria quindi con un esame computerizzato che facciamo a Physiopoint siamo in via del Casaletto a Monteverde è un esame che dura una ventina di minuti con un podologo specialista quindi una persona che fa questo esame valuta anche quali sono i carichi i punti d'appoggio consigli per la scelta della scarpa che volevi dire Mary? esatto, volevo aggiungere che spesso da questi esami abbiamo anche delle informazioni riguardo proprio al nostro assetto posturale quindi è veramente importante come tipo di esame perché non è soltanto l'esame dei piedi è la base d'appoggio di tutto il nostro corpo esatto la nostra postura quindi è veramente interessante poi scoprire che dietro una sofferenza diciamo della fascia plantare magari si nasconde proprio un problema di natura più generale di tipo posturale molto frequentemente troviamo il carico su una gamba rispetto all'altra anche del 65-70% rispetto all'altra quindi ci abbiamo involontariamente magari per una banalissima distorsione presa da bambini dieci anni fa un peso del 70% su una gamba e del 30% sull'altra e non ce ne accorgiamo perché il nostro corpo è bravissimo ad adattarci si compensa tantissimo e quindi il rischio è portare avanti un carico eccessivo poi sul ginocchio sull'anca e sulla colonna quindi per scoprire che poi basta modificare leggermente questo tipo di assetto alla base per avere una postura totalmente diversa e quindi risolvere molti molti problemi esatto bene ragazzi io ne approfitto per farvi gli auguri di buona Pasqua e chiaramente noi ci faremo del male nel senso alimentare lo sappiamo quindi cercate di infatti noi a posto l'ho detto perché bravo perché te l'ho fatta quella domanda perché se c'è la colazione di Pasqua alle 9 e mezza alle 10 poi a mezzogiorno uno va a correre poi dopo c'è il pranzo e poi dopo quando lo sono alle 4 o alle 5 poi c'è lo svenimento totale e vabbè vabbè ok grazie ai ragazzi di VisoPoint ci vediamo la prossima settimana alla settimana prossima ciao grazie ciao